Il passaggio dice che tutto è fatto, il capo dei cali, i posizionati, sanno per partire, quindi attenzione, pronti, via, parte, l'ultima categoria, quella dei G6. Vai Cristian, vai su! Vai Elie, vai! Andiamo a guardare, bene adesso siamo qua, ecco i corridori che ormai sono alla curva, in moto, ecco i concorrenti, posto, vengono, tutti dalla, ah, padanno mio, sembra di essere in un film 3D! Pedala Tommy, pedala rilancia! Per il punto di vista che coriamo G6, a tutto ci sono qui! Si è già qui, si è ancora qui, sopra che non si può darvi, sono qui, è qui! Vedete che fanno 50 l'ora per 200 mila"? Non ti va, grazie qui! Mi ha messa l'altro, non fa, 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 non fa! Non fa, non fa, non fa! stai lì, stai lì sono, è una faglia stai lì, stai lì stai lì è un pelapurba è finito la pressione è finito in minuto il fatto l'amore questo è un bim'impezzio non lo trovo Bravo Luca, stai lì, vai piavanti, vai piavanti. Stai lì nel senso, stai a ruota, vai piavanti. Viste le buoni piavi di Rosane, di l'Oricchione, ma delle che potete anche su questo traguardo a dare via negli anni passati. Vai Francesco! Dai Luca! Dai andate così, dai Davide, forza Francesco! Dai Fabio! Adesso sono in due, ma... è un partito con i nostri primi passaggi, mi piace sempre. Noi ho fatto che non vuoi l'amare, ma sono in due, ma sono in due. Adesso ha trovato uno, è la città di Cali. Vai Francesco! Noi ho fatto quello della città! Noi ho fatto... ...dia vado città! Ti,Ne... 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 Dai Fabio! Sei giri, sei giri in questo momento, le calenche in guida, guida da Davide Colombaccio. Questa è un doppio? Eh sì, ma doppia anche l'altra. Benissimo! Sono in marzo a 16, dopo circa una mezz'oretta, in tempo di... Dai Marvani! ...di arrivo, faremo con le premiazioni. Aspettiamo tutti gli interessanti, si passa in questo momento la testa. La testa di Gaghi ha aumentato il vantaggio. Questo è un punto di vista. Sì, Finginiero, il cognosimento con il Francesco. Allora, mantenere la destra ragazzi, mantenere la destra perché... Abbiamo già i primi concorrenti. Dai Bantoni! Hop, hop! Un'ultima e tre tornate di gara per la testa della forza. ... Ragazzi che stanno guidando la forza da diversi... ... 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 No, no, guarda, guarda, guarda la volata del mio corpo, ma cominciano la volata, che fanno? Grazie.